e benvenuti amici della legge italica a samurai warrior che vi parla oggi siamo tornati update dei nani avremo già visto probabilmente vedremo nei prossimi giorni mesi settimane anni no scherzo al massimo qualche ora l'update dei uomini bestia oggi andiamo a vedere quello dei nani perché i nani hanno ricevuto un nuovo lord leggendario torek ironbrow che come possiamo vedere e vedremo parte qua a sud della lustria nella campagna occhio del vortice mentre per gli imperi mortali partirà vicino alle world age mountain quindi una zona che abbiamo già visto qua in basso sostanzialmente vicino a un sacco di altri lord leggendari oggi però facciamo la campagna del vortice e l'obiettivo di questo video è farvi vedere solamente più o meno il rework che hanno ottenuto i nani perché non è arrivato solamente torek c'è stato un rework enorme questo free lc è stato da 20 su 10 sostanzialmente un free lc che porta un rework per gli uomini bestia un rework per i nani un nuovo lord leggendario per i nani nuovi lord per gli uomini bestia in caso ce li aveste ogre chi cavolo si aspettava gli ogre ma va bene così va bene così adesso ci andiamo ad ascoltare cosa si dice il nostro mentore anzi no mi spiace ovunque abbiamo la nostra introduzione da parte di torek che saltiamo brutalmente come al solito e andiamo a vedere che cosa è nuovo per torek e che cosa è nuovo per i nani intanto che cosa è nuovo per i nani sostanzialmente le costruzioni sono state semplificate di molto via molte che erano sostanzialmente inutili e adesso molte unità possono essere reclutate molto più facilmente hanno cambiato le posizioni di alcune unità specialmente per esempio i girocotteri prima si trovavano tipo qua o qua adesso invece sono tier 3 e 4 i nani sono qui martellatori e spaccaferro cioè sostanzialmente tutte le unità sono capate al tier 4 non c'è più niente al tier 5 rendendo il gioco molto più veloce sostanzialmente alcuni edifici sono stati completamente cancellati non ne ho visti nuovi c'è un rework al sistema dell'oro del giuramento che adesso viene generato dagli edifici e i lord come torek possono attraverso una abilità speciale che hanno da qualche parte non mi ricordo dove comunque sostanzialmente possono aumentare la produzione di oro del giuramento nella regione in cui sono poi rework completo signori rework completo delle rune adesso le rune sono sostanzialmente una loro lord della magia ma le andremo a vedere quando siamo in battaglia abbiamo una nuova runa della velocità abbiamo una runa del voto e dell'acciaio che esisteva già prima ma adesso la possiamo vedere in tutta la sua gloria runa dell'ena e della rovina reworkata runa della lentezza poi abbiamo la runa della distruzione e della negazione tutto il sistema runico è stato rifatto ma anche le incudini del destino probabilmente oggi non riusciremo a vederle ma le incudini del destino sono state reworkate ora sono davvero incredibili sul campo di battaglia e non è tutto i nani in questo nuovo update hanno la possibilità di fare delle rune per degli standardi da dare alle proprie unità e ragazzi ce ne sono infinite e rune da dare ai personaggi che agiscono sui personaggi di alcune rune per esempio di queste qua ne può essere fatta una sola altre rune quando verranno fatte le potete fare una sola volta ve ne verranno date per esempio tre o roba del genere per esempio queste rune standard sono tutte tre tranne le più potenti che sono ovviamente bloccate a uno dopodiché torek ha come obiettivo della campagna quello di andare a ricercare questi oggetti che sono sparsi sostanzialmente per tutta la mappa in ordine al fine scusate di ricreare delle cose che poi ci danno un reward unico per esempio avendo un ciondolo dell'eroe più la catena del vincolo possiamo evocare hans varrison che non esiste nella lore però è un eroe unico attraverso questi due oggetti il gioco nanico e la gemma della scintilla possiamo creare un carnosauro soggiogato oppure abbiamo delle nuove dotazioni da guerra codice della metallurgia insomma tante 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 novità senza poi dimenticarsi che il sistema di creazione per oggetti per personaggi è ancora lì io direi che senza ulteriore indugio a parte che io qua devo costruire l'oro e questa andiamo a combattere la prima battaglia del gameplay fatemi solo controllare di star registrando perché a volte mi dimentico di registrare e non sapete che cosa sia e possiamo già andare a vedere le prime due rune che abbiamo per esempio torek parte con la runa dell'ustione che possiamo dare solo ad un'artiglieria e gli dà sostanzialmente dei proiettili esplosivi e la runa dello stoicismo che dà bonus contro le unità grandi e difesa esperta contro le cariche all'unità che noi scegliamo in questo caso la diamo a questi barbalunga con grandi armi andiamo subito subitissimo a oh mio dio stiamo affrontando nostri il damnus sostanzialmente nostra damnus va benissimo i nomi di creative assembly fanno sempre crepare dalle risate andiamo ad affrontare questa prima battaglia come potete vedere comunque non è che sia una battaglia molto facile le perdite che ci vengono date all'inizio sono 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 medie quindi dobbiamo affrontarla con una certa intelligenza tattica c'è da dire e quindi allora la parte più difficile di questa battaglia sarà di sicuro ammazzare i nemici in generale ma c'è un'unità molto molto particolare che mi mette in soggezione e sono i globardieri del vento benefico i globardieri del vento benefico dobbiamo assolutamente distruggerli il più possibile se sentite un campanellino in giro è il mio cane che mi sta roppendo le balle perché vuole giocare allora andiamo subito a sparare su questi globardieri del vento benefico che sono una delle unità più davvero distruttive degli scaven questi se mi pigliano le unità mi fanno malissimo e vediamo subito che i nostri proiettili come detto esplodono e qua ne abbiamo già fatti fuori mi sa tre o quattro bene così bene così continuiamo così tanto questi ratti del clan non avranno nessunissima speranza e adesso mi sembra un buon momento di spiegarvi il rework che è stato fatto al sistema delle magie sostanzialmente cosa succede mettiamo il gioco in pausa noi abbiamo diverse magie che possiamo castare per esempio qua abbiamo la runa del voto dell'acciaio e quella della velocità in questo caso solo quella della velocità quando noi castiamo una magia o una runa scusatemi verrà aggiunto un cooldown a tutte le altre rune che abbiamo quindi se abbiamo tutte e sei le rune principali il cooldown che in questo caso è di 60 secondi e deglobare verrà dato a tutte le rune che abbiamo in più c'è un cooldown per la runa specifica per esempio se castassi ora la runa del voto dell'acciaio tutte le altre rune quindi in questo caso solamente la runa della velocità andrebbero in cooldown per 60 secondi e per 120 secondi invece sarebbe in cooldown la runa del voto e dell'acciaio ora la cosa vale per ogni rune che abbiamo quindi per esempio se ora io castassi la runa della velocità con questo lord con questo forgiarune potrei castare due secondi dopo mezzo secondo dopo nello stesso istante la stessa runa con torek quindi sostanzialmente quello che vi voglio dire è che ok c'è questo nuovo sistema e le rune sono per eroe ecco non sono non è non sono globali ecco tipo vediamolo subito qua mi casto addosso quella runa e come potete vedere posso subito castare la runa della velocità in questo caso sto mandando torek a non sacrificarsi ma nemmeno tanto anche perché è torek quindi nel senso non ci sarebbero grandi problemi né più né meno qua dobbiamo solamente oldare qua li tiriamo con le con le blasting charges e come potete vedere torek è abbastanza incazzato quando si tratta di queste robe poi direi che contro carichiamo anche se abbiamo la difesa contro tutti i tipi di cariche meglio meglio contro caricare e adesso stiamo sparando a questi globardieri del vento venifico come detto sono l'unità più pericolosa quindi rivolgo fuori dal campo di battaglia prima possibile e tiriamo delle cariche esplosive qua dentro dai e oh sì signori oh sì signori massacrati massacrati ecco come potete vedere posso ricastare questa runa per esempio boh per 18 secondi entrambi i miei lord avranno in questo caso è un più 24 attacco corpo a corpo e un più 45 per cento velocità comunque sono numeri che interessano sostanzialmente solo chi gioca multiplayer per voi interessa che ok casta questa runa fa più danno fanno più danno i miei eroi e le mie unità quando stiamo massacrando il loro generale questa parte l'abbiamo vinta tiriamo le cariche esplosive qua la battaglia dovrebbe essere vinta anche se in teoria il gioco me la doveva mi aveva detto che era più difficile io mi fido di te gioco ma non ve l'ho neanche detto c'è stato il rework di dell'auto resolve probabilmente voi l'avrete guardato avrete detto ma scusate questo qua cos'è c'è stato un rework all'auto resolve adesso appena andiamo a vedere nella prossima battaglia qua intanto tre perdite doveva essere una battaglia incredibilmente difficile vediamo di fare uno screenshot no è arrivato tardi va bene così ok poi dopo abbiamo due nuovi due nuove cose che possiamo fare dopo la battaglia abbiamo oro giustizia di preda che ci dà oro del giuramento e tesoreria oppure brindiamo alla vittoria che ci dà più soldi più crescita e più ordine pubblico stiamo combattendo nella nostra provincia e quindi la vogliamo di sicuro ecco poi dopo qua per esempio abbiamo che nel nostro grande libro dei rancori che è stato anche quello reworkato per torec abbiamo all'inizio 7 7 si vorrei dire che 4 più 3 fa 7 missioni uniche dove dobbiamo reworkare e avere di nuovo quegli oggetti che sono stati tolti ai nani tanto tanto tempo fa qua intanto diamo le abilità e andiamo a spiegare il nuovo grande libro dei rancori allora adesso ci sono quanti 5 tier diversi di gravità e i malus e i bonus si contrastano nel senso che gravità soddisfatta 019 abbiamo buoni rapporti diplomatici con i nani velocità di ricerca aumentata ordine pubblico ma attenzione all'ultima una bassa probabilità che degli sventratori siano aggiunti ai reggimenti della fama sostanzialmente più si va avanti più i bonus diminuiscono ma più è alta la possibilità che degli sventratori si uniscano a noi nel tab dei reggimenti della fama che è questo qua quindi abbiamo la possibilità di reclutare degli sventratori più più il damage cron si riempie è davvero incredibile hanno reso una meccanica che era frustrante e basta una buona meccanica adesso è una buona meccanica adesso passiamo il turno vedete che ci sono sulla sulla mappa questi per esempio tre questi tre insediamenti che sono circondati da delle rune nani che hanno una una spirale di luce che va verso l'alto ecco questi sono degli insediamenti che hanno degli oggetti che ci servono per fare il il nostro degli oggetti sostanzialmente gli oggetti che li dobbiamo ricreare si trovano in questi insediamenti quindi noi li dobbiamo o conquistare oppure se non li conquistiamo dobbiamo essere alleati militari con la fazione che li detiene ora andiamo a vedere il nuovo rework alla risoluzione automatica prima vi ricorderete che facendo clicca su risoluzione automatica a volte anche se avevate le le robe in vostro favore tantissimo perdevate delle unità a caso ecco adesso qua intanto ci dice che tipo di vittoria avremo quali sono le perdite che aspettiamo e se andiamo su risoluzione automatica e ci stiamo sopra se perdiamo delle unità quelle unità cominceranno a flashare in rosso quindi in questo caso io so che non perderò nessuna unità facciamo la risoluzione automatica perdiamo un po' di uomini ma non abbiamo dovuto combattere una battaglia che altrimenti sarebbe stata quanto 15 20 minuti tanta roba tanta tanta roba qua adesso mi viene richiesto di iniziare con 15 di oro del giuramento intanto come potete vedere abbiamo abbiamo preso metà della metà destra delle tenaglie la metà sinistra si trova a nord in una in un insediamento dei nani che probabilmente diventeranno nostri alleati oppure se seguiamo una missione specifica figli ribelli avremo l'opportunità di confederarci con loro e quindi che dire tanta roba possiamo avere quasi sin da subito un nuovo due nuove città qua io direi che adesso stiamo per un attimo anche perché dobbiamo riprenderci dalle perdite incredibili di questa battaglia tra un turno potremmo reclutare delle altre unità e direi che mi servono un altro paio di nani guerrieri sì non di più e possiamo visto che mi chiede di fare qua abbiamo il talismano di resistenza e questa icona che a me non serve e la possiamo riciclare per 20 oro del giuramento che ci consente di completare questa missione che ci dà 1000 di oro detto questo l'oro del giuramento volendo potremmo anche utilizzarlo per craftare qualche runa che runa che runa vogliamo intanto questi qua sono per per i nostri quindi quindi che runa voglio farvi vedere oggi questi qua sono per ok standardi standardi la runa maggiore dell'immolazione questa qua funziona solamente su su delle artiglierie quindi è abbastanza inutile c'è una runa molto interessante che a me piace molto la runa dei progenitori eccola qua ce ne daranno tre è una runa molto particolare che riduce il vigore che perdiamo del 25 per cento e in più quando scendiamo sotto il 25 per cento di salute le entità della nostra unità non possono più morire e diventiamo indistruttibili sostanzialmente non ho la minima idea di come tu li possa uccidere e di conseguenza io non mi metto nemmeno me ne metto due dentro perché queste rune sono fortissime e passiamo il turno poi dopo andremo a subatum subatum si chiama subatum allora riforza qualsiasi manufatto nella sala dei manufatti che è quella che abbiamo visto poi ci chiedono di distruggere il clan mangi che è qui ok visto che li abbiamo appena distrutti malamente qua abbiamo la runa della velocità io mi prenderei probabilmente niente andiamo a distruggerli e poi reclutiamo e poi reclutiamo quindi passiamo il turno passiamo il turno si la modalità non è stata non è stata cambiata molto e abbiamo ricercato tre tecnologie quindi abbiamo la bellezza di 500 d'oro per ottenere l'armatura runica di toric che eccola qua resistenza fuoco alla magia armatura una nuova abilità che ci dà ancora più armatura e più resistenza al fuoco quindi signori tanta roba dobbiamo conquistare tre insediamenti ma vedo che uno è già qua prendiamo la runa dell'ira e della rovina che la voglio tantissimo e andiamo a prendere subatum che dovrebbe essere un insediamento scaven qua come potete vedere vittoria decisiva perdite basse io sfrutto l'occasione per dare le due nuove rune che abbiamo preso qua tu te ne vai tu vai a questa le mie due unità più forti sostanzialmente avranno quella runa e risoluzione automatica non perdo nessuna unità conquistiamo questo dovrebbe esattamente darci la possibilità di confederarci come vediamo abbiamo quattro possibilità come da manuale reputazione e rispetto favori delle gilde e indipendenza indipendenza è l'unica che non ci permette di confederarci con loro come da manuale ci darà 100 oro del giuramento ma renderà la popolazione infelice meno 5 per due turni rispetto tra i clan ci darà più 20 rapporti diplomatici con i nani che è l'unica fazione nanica che c'è sulla mappa quindi è abbastanza inutile o e più 5 di ordine pubblico favori delle gilde mi darà più forza dell'arma per 10 turni e più armatura per 10 turni se invece volessi scegliere di non confederarmi con loro avrei movimento e oro del giuramento ora sinceramente visto che 10 di ordine pubblico li posso prendere e 100 di ore del giuramento sono tanta roba facciamo come da manuale e tanta roba così dai dai ok abbiamo anche finito già la missione per l'armatura runica di torek e qua i nostri alleatini hanno qualche unità di troppo perché stiamo perdendo 240 quindi direi che levo questi qua e ci facciamo eccellentemente questo e questo poi dopo abbiamo 180 che possiamo riempire io direi con un'unità di balestrieri e prendiamo anche per torek la runa dell'ire della robina dopodiché visto che non ho intenzione di fare guerra tantissimo anche perché vicino abbiamo tante fazioni dell'ordine che hanno dei bonus diplomatici con noi di conseguenza scelgo questa tecnologia ambasciatori nani e poi emissari nani che mi porterà ad avere più 30 rapporti diplomatici con gli uomini lucertola che abbiamo attorno per esempio qua abbiamo le sentinelle di xeti e le sentinelle meridionali direi che proviamo subito a fare dei pati non aggressione con loro che come vedete funzionano tantissimo addirittura qua ci dà pure il transito militare ci dà pure il transito militare va bene così e procediamo direi verso oxil le sentinelle del tempo eccetera eccetera una volta che ci siamo ripresi e abbiamo riforgiato il primo oggetto che è le tenaglie da forgiarune di tugni che darà attacco corpo a corpo p5 per minatori e barba lunga ci darà gli attacchi spezza corazze per minatori e barba lunga e ricarica condivisa delle rune scesa del 15% abbiamo la possibilità di dare un decreto pure qua faremo crescita e risorse destinate allo scambio commerciale più 5% che ci permetterà di fare tanti tanti soldi in più una volta che avremo iniziato a commerciare con questi uomini lucertola del sud abbiamo l'oro del giuramento grazie per avermelo ricordato e direi che stavolta lo voglio per dei personaggi andiamo a vederla qua c'è la runa maggiore del volo che dà un proiettile magico a uno dei miei quindi direi che sì la incidiamo la incidiamo poi come potete vedere non la possiamo più rifare finché non moriamo malamente e abbiamo magari la runa maggiore dell'ostinato che ci dà un più 20% salute no la runa maggiore dell'astio signori costante intorno a sé sui nemici dell'avvicinante quando siamo in corpo a corpo gli faremo un sacco di danni un sacco di danni ok abbiamo queste due rune e volendo potremmo castarne ancora ma non mi interessa molto quindi direi che diamo la runa maggiore dell'astio a lui e a te diamo quella del volo poi dopo aumentiamo la velocità di ricerca in tutta la mia fazione e tu ti prendi ancora la runa dell'ire della rovina qua stiamo andando abbastanza bene prossimo turno avremo la prossima unità di balestirei ma sapete che vi dico noi reclutiamo un'altra non si va da spese nell'impero nanico non si va da spese anche perché qua adesso avremo i lingotti qua continuiamo a costruire e andiamo avanti lord scroll no non sei benvenuto per niente anche perché io ti voglio massacrare ma massacrare male ok abbiamo reclutato la prima unità di balestirei aspettiamo la seconda e costruiamo il costruiamo il gioiellino costruiamo il gioiellino ok 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 riforgiamo ok abbiamo forgiato la tenaglia del forgiarune che ora ci darà tutti i bonus del caso e più 50 oro del giuramento quindi tanta tanta roba direi che stiamo qua un altro turno per ripristinare le druve poi dopo marceremo su oxyotl se direi proprio di sì magari però c'è qualcosa di interessante che posso craftare penso relativamente poco se direi relativamente poco magari altre rune standard è 15% di resistenza fisica o causa paura non sarebbe male non sarebbe oh mio dio runa runa maggiore di valaia la voglio e so anche a chi darla la do a torek che tanto ha già il 40% sì unità senza personaggio assegnata ah ok devo darla ad un'unità niente peccato molto peccato comunque il sistema è estremamente interessante ci si può stare insieme qua voglio un'alleanza difensiva e voglio lavorare verso quella militare quindi è decisamente quello che voglio qua la disciplina serve a niente per i nani e l'attacco degli scaven sconfiggi l'esercito del seguente lord in battaglia infektec la peste scaven sta arrivando una marea di carogna pare pochi attimi dopo che il manufatto è stato riforgiato che siano stati lì ad aspettare o si tratta forse di una sforzionata coincidenza ad ogni modo al custode delle rune non interessa il motivo gli uomini ratto sono un nemico familiare e queste piaghe moriranno come tutti gli altri quindi qua è sostanzialmente spawnata vicino al creatore guacmull un'armata scaven e io direi che noi ci mettiamo qua in modalità imboscata ad aspettarli tanto ci dovranno attaccare qua gli diamo tracciatore qua possiamo migliorare questo e qua per ora niente da migliorare passiamo il turno aspettiamoli distruggiamoli e poi dopo direi che questo l'ex explore di come sono i nani ha fatto vedere più o meno tutto quello che c'è di nuovo più o meno tutto quello che c'è di nuovo abbiamo parlato del nuovo libro dei rancori il nuovo sistema delle forge il nostro obiettivo è raggiungere tutti i nuovi cioè tutti rifare i vari i vari oggetti e una volta fatto questo ci sarà una battaglia finale per Torek quindi passiamo il turno dovrebbero finire dritti dritti nella nostra imboscata forse però l'imboscata la facciamo un attimo più indietro che così entra anche la guarnigione di Sabatum ma forse forse ok qua si stanno muovendo le sentinale di Xeti vicino a noi ma tanto abbiamo il patto di non aggressione sentinale meridionali non ci danno una mano perché di sicuro non possono e noi qua abbiamo non è riuscito a prevenire la tua imboscata molto bene a chi diamo il più 50% di resistenza alla magia beh un'unità qualsiasi tanto conta relativamente poco non voglio chiudere il coso con un auto resolve quindi direi che facciamo un bel combattibattaglia con controllo a grandi eserciti è stato non sono riusciti a prevenire la nostra imboscata noi gli faremo una bella imboscatona dove li massacriamo e così imparano a venire a prendermi i miei gioielli sostanzialmente come ci ricorda tutto quello che vedete è ancora in sviluppo non aspettatevi che niente di quello che vedete sia finale come al solito ormai se non l'avete ne ancora capito non so cosa dirvi ma niente di quello che vedete è finale tutto è soggetto a cambiamenti che possono essere più visibili meno visibili diciamo che quando a noi partner viene data la possibilità di far vedere a voi qualcosa significa che di solito è già andato attraverso diversi fasi di approvazione e quindi è abbastanza buono da essere accettato per il grande pubblico però cambiamenti un po' minori possono sempre avvenire ora direi che voglio le mie cariche esplosive qua con dietro le longbeards quindi tu sei sei e tu sei quattro ho i due ok scusa voglio sparare per primo cannoni rattling voglio sparare per primo sui cannoni rattling si assolutamente qua ci portiamo più avanti lungo la foresta e andiamo avanti andiamo avanti abbiamo assolutamente trovare un modo per ammazzarli ok ok abbiamo testato il verune uh guardate qua guardate qua i danni i danni per niente pardon qua ci attaccano ma si sono sostanzialmente dimenticati che la massa esiste bene così direi che adesso attacchiamo questi ok daje daje che stiamo andando mica male voi sparate a questi ratti lupo e qua abbiamo sostanzialmente che le unità nemiche si stanno portando qua come potete vedere ruono disponibili per il tempo di ricarica condiviso qua abbiamo il tempo di ricarica condiviso ci sono due modi diversi di far vedere il tempo di ricarica condiviso devo chiedere quale dei due sia alla fine quello che vorranno implementare perché immagino che non ne terranno due ma ce ne sarà uno solo questo potrebbe essere un piccolo bug qua si stanno focussando su di noi direi che noi ci castiamo una bella uuuuh 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 signori massacrosa massacrosa sta roba massacrosa ah si ci hanno evocato anche dei dei cosi alle spalle andiamo un attimo su Thor mi sono ricordato di tutto tranne che di farvi vedere Thor quindi ce lo guardiamo ora in tutta la sua gloria nanica con gli spalloni di fuori mezza armatura le corna una bestia signori una bestia è una bestia e va bene così si vede che è vecchio no ma c'ha due occhi neri signor Torek c'ha un occhio nero si ha un occhio nero e l'altro no bello oh mio dio adesso oh si è beccato una di queste qua in faccia questa era una la vogliamo subito si grazie e direi che mandiamo questa unità ad aiutarlo qua ci può da fare ci mandiamo le cariche esplosive sopra io mi stavo guardando Torek e mi sono perso tutto il resto dai avanti e vediamo di sparare a questi qua vediamo di sparare a questi qua anche perché ci stanno facendo male della madonna Torek da solo qua è stato più che capace di massacrare i nemici e vediamo di attaccare questi ma mi sa che si battaglia vinta battaglia vinta tranne per il lord che non so se è indistruttibile cosa ma adesso gli diamo la morte rituale scappa 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 anche tu e l'abbia mancato di poco l'abbia mancato di pochissimo ma va bene così si lui dovrebbe essere indistruttibile si vabbè andiamo ad ammazzarlo l'armata ha resistito discretamente bene scusate oh mi sono pure dimenticato che avevo delle unità di rinforzo quindi si sarebbe stato abbastanza imbarazzante se avessi perso la battaglia e le unità di rinforzo non le avessi neanche viste quindi ups ok battaglia terminata qual era il reward per questa mi sa che era tipo che ci dava un sacco di replenishment in più quindi sostanzialmente prossimo turno abbiamo l'armata come nuova dunque qua 99 perdite contro 372 manco da l'or no voglio soldi dammi soldi sono un nano vero e proprio io dammi di soldi eh mi si va danneggiata velocità di reintegro dalle vittime più 80% per tutti gli eserciti per clad barakak che è la sua il suo martello runico che vi lascio qua semplicemente per vedere che cosa fa avete tutto dobbiamo dobbiamo trovare un insediamento in rovina e cercarci dentro allora direi che finiamo questi rattacci qua che non ci piacciono per niente per la decisiva quindi non ci penso neanche a fare dacce di sordi e dacce di sordi ecco qua dovremmo andare nel nostro territorio sì quindi il prossimo turno saremo ancora più vita ma per il rework dei nani questo è tutto se volete che continui la campagna anche se ragazzi abbiamo anche Taurox e Xiatro da farvi vedere quindi non iniziamo subito con le robe flc a portare le campagne noi con questa abbiamo finito ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti